Mi chiamo Leon, un anno e mezzo vengo di Colliobbio, è successo problemi saluti, è arrivato qui in Italia, è morta mia famiglia, figlio fatto incendente con macchina è morto mio figlio, moglie e Nora, lasciano tre nipoti, ho fatto problemi occhi, senza volontari, senza persone come che lavorano con Colliobbio, io non so come posso vivere, volontari buonissimi qui, buonissimi, molto gentili tutti, secondo me è importante che aiutano, anche io voglio sempre aiutarsi, io chiedo, sempre chiedo, posso dare un mano qui perché aiutano, chi può aiutarsi deve aiutare, è così, vita così, Dio sai cosa fai, non so, io credo, meglio insieme. Su questa barca ci siamo tutti, ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme, nessuno si salva da solo. insieme. Sì. 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 Grazie.